Istigazione al suicidio e maltrattamenti in famiglia sono i due reati per il quale indagato il 35enne Davide Falcone, fidanzato di Roberta Bertacchi, la 26enne, ritrovata impiccata il 6 gennaio scorso sul balcone della sua abitazione a Casarano, in cui da poco si era trasferita. Attualmente Falcone si trova in carcere a seguito di un blitz effettuato dai carabinieri il 7 marzo, che ha portato all'arresto di 13 persone per associazione a delinquere finalizzata al traffico e alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La giovane donna fu ritrovata impiccata con una sciarpa della locale squadra di calcio regalata a Leda Falcone, tifoso del Casarano. La sera precedente, il ritrovamento del corpo, i due fidanzati litigarono in un pub della cittadina salentina. Poi, una volta usciti, la discussione sarebbe proseguita in auto fino a quando Roberta Bertacchi avrebbe deciso di scendere e tornare a casa a piedi. L'uomo aveva ricostruito quelle ore spiegando di aver accompagnato la fidanzata e di essere poi tornato nella propria abitazione dai figli, frutto di una precedente relazione. Versione però smentita dagli amici della 26enne, i quali, rimasti a casa sua fino alle 3 del mattino, avevano dichiarato che la ragazza sarebbe tornata a casa da sola e che l'uomo era rientrato in un secondo momento nell'abitazione della donna.